Alex Sambucci, come si presenta il Parma Baseball in questa stagione 2014? Quali obiettivi e che differenze rispetta l'anno scorso secondo te? L'obiettivo principale come tutti gli anni sicuramente è entrare in playoff visto che sono mai tre anni che li manchiamo sempre per un soffio. La squadra è più o meno come l'anno scorso, abbiamo qualche innesto nuovo però c'è tanta grinta, tanta volontà e secondo me possiamo far bene. Cos'è mancato secondo te l'anno scorso per arrivare ai playoff? Votevamo quasi lasciare fuori San Marino che poi addirittura ha vinto il campionato. Beh, è mancato un po' di condizioni all'inizio, siamo partiti molto orenti anche perché non abbiamo potuto fare molti amichevoli. Poi la squadra era molto giovane e quindi ha faticato un po' all'inizio però poi come abbiamo visto siamo andati molto bene. Però siamo fiduciosi per quest'anno. Nelle amichevoli avete fatto notare un po' di ritardo forse nel box. Pensate che riuscirete insomma a ridurre questo gap già nell'incontro con il Nettuno 2? Beh sì, purtroppo nel nostro sport per arrivare al ritmo giusto bisogna giocare. Le quattro micro che abbiamo fatto non sono state un gran che però siamo fiduciosi, adesso c'è il Nettuno, venerdì andiamo li carichi e vedremo. Grazie.